In Svezia è vero che vanno senza le mascherine, cioè non c'è un obbligo di mascherine, non ci sono i lockdown. Come stanno in Svezia? Allora, hanno pagato un prezzo molto alto anche loro, diciamo questi sono i casi totali, 166.700, i morti totali sono 6.082. Però se andiamo a vedere rispetto alla popolazione, ve lo faccio vedere, ecco la Svezia è quella linea gialla, è poco più bassa rispetto a noi e molto più alto il tasso di mortalità rispetto alla Germania che invece ha fatto un serio lockdown e l'ha fatto ancora prima di noi e soprattutto molto più alto rispetto alla Norvegia, la vicina Norvegia che invece ha appunto delle misure, delle restrizioni certamente maggiori. L'immunità di gregge che volevano non c'è stata, il metodo Svezia è quello soft touch, è stato definito e vi faccio vedere quello che diceva ad aprile appunto in qualche modo l'infettivologo di Stato, Anders Tegnell, ogni paese deve raggiungere l'immunità di gregge in un modo o nell'altro, noi lo raggiungeremo in un modo diverso. Le mascherine sono una soluzione facile, di fido delle soluzioni facili a problemi complessi. Infatti questa è la Svezia, la vediamo in alcune immagini, praticamente tutto aperto, tutto senza, le persone vedete qui aspettano senza mascherine, sono tutti ai tavoli del ristorante vicini, anche sui mezzi pubblici, tutti senza mascherine perché la Svezia è l'unico paese in Europa che non ha avuto lockdown, non ha obbligo di mascherine, ha avuto le scuole aperte per i ragazzi fino a 16 anni, tutta la prima ondata e diciamo si è limitato a delle raccomandazioni, le vediamo, sono praticamente la raccomandazione, la fiducia è quella nella popolazione, quindi evitate i trasporti pubblici, evitate i contatti fisici con altre persone che non possono essere familiari. È più un metodo basato sulla responsabilità e meno sul divieto. Sulla responsabilità, hanno fatto pochi tamponi, vi faccio vedere questa cosa che è abbastanza importante, questo hanno fatto adesso in alcune regioni lo fanno solo ai sintomatici, però c'è anche una cosa abbastanza contestata perché abbiamo scoperto che ad esempio, questa è una direttiva all'ospedale di Stoccolma di marzo, i pazienti con più di 80 anni non dovrebbero essere ammessi alle terapie intensive, cioè in pratica perché hanno meno possibilità di riprendersi. E quindi si lasciano morire nel caso in cui ci siano in crisi. Mi scusi, signorino.